Ciao a tutti, siamo i 2%. E se volete ripescarli, mettete mi piace o condividete questo video. E se volete ripescarli, mettete mi piace o condividete questo video. E se volete ripescarli, mettete mi piace o condividete questo video. E se volete ripescarli, mettete mi piace o condividete questo video. E se volete ripescarli, mettete mi piace o condividete questo video. Grazie a tutti.